Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta. Parliamo quest'oggi di freestyle specialità Gobe. Ho il piacere di ospitare quest'oggi un plurio olympionico della specialità Simone Mottini. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per aver partecipato. Due Olimpiadi all'attivo. Non è cosa da tutti, innanzitutto complimenti. Grazie. Quindi Alberville 1992 e fu il debutto della specialità nel panorama olimpico e poi Lillehammer 1994. Che ricordi hai Simone? Ricordi bellissimi, indelebili, molto personali, difficili da tirar fuori. Sono passati anche 25 anni oramai, però sono ricordi proprio che non ci si dimentica. 25 anni hai ragione, non ci penso mai, ma ci penso come invece quando rivedo le varie cerimonie d'apertura. Abbiamo una concomitanza, io e te siamo stati entrambi novelli all'Olimpiadi, io per lo short track ovviamente non per la specialità Gobe, come il freestyle anche lo short track fu alla prima volta in edizioni olimpiche. Eravamo assieme ad Alberville, una cerimonia d'apertura fantastica, il portabandiera fu Alberto Tomba. Già quello per noi era un successone. Tempi molto belli, chiaramente l'Italia era sull'onda del successo con i vari Deborah Compagnoni e Alberto Tomba. E quindi c'erano aspettative e l'Italia era veramente guardata da tutti e noi eravamo lì in mezzo. Quindi veramente bello tutto, scenografia allo stadio, dei ricordi bellissimi. E come andarono le tue Olimpiadi, Simone? Conoscendo i miei limiti, facendo le coppe del mondo eccetera, non avevo grandi obiettivi se non quello di arrivare a parteciparvi. Nella prima arrivai ventiduesimo e invece nella seconda sono stato diciottesimo a Lillehammer e fuori dalla finale dei primi sedici di pochissimo e quello mi è rimasto un po' così, però avevo delle buone aspettative perché mi ero preparato discretamente bene. Avevo un po' di acciacchi, però... Due Olimpiadi consecutive, ricordiamo il 92-94, per far sì che si sfalciassero le edizioni estive da quelle invernali e viceversa. Tutte e due edizioni in Europa, ma veramente in contesti diversi. Quale delle due ti è più rimasta nel cuore? Ma l'ultima, non per cronologia, ma proprio perché tutto un po' eravamo già più preparati dalla prima esperienza e poi va bene, la Norvegia a me piace tantissimo sia come luogo che come persone e l'organizzazione, il tempo, la neve, era tutto perfetto e quindi sicuramente voto Lillehammer senza nulla togliere. Certo, certo. Alle prime Olimpiadi che non si scordano mai, Lillehammer giornate splendide, freddo, terribile, erano 25-26 gradi, però era talmente secco, ma soprattutto il pubblico, un calore veramente pazzesco, è vero. Simone raccontaci invece come hai cominciato la tua carriera da sportivo prima che ti frischiava? Ma da ragazzi qua si respirava neve e di conseguenza era non d'obbligo, ma uno se voleva fare il po' faceva sci. Quindi io ho scelto lo sci alpino, grazie al papà e alla famiglia che chiaramente era proprio pane quotidiano. Certo, anche perché, scusa Simone, si interrompo, provieni da una famiglia storica per ciò che riguarda lo sci alpino a Livigno, tuo papà Sandro Mottini e poi fratello Mauro e poi tua sorella Carla, Rudy, insomma tutti quanti sciatori anche di un certo livello, quindi era quasi inevitabile che il piccolo Simone dovesse praticare lo sci. Esatto, esatto e quindi appartenente allo sci club Livigno ho cominciato fin da subito, dalle elementari, a fare le prime garette, trofeina, avari che c'erano in tutta la Valtellina provincia e campionati regionali, nazionali, con anche discreti risultati dove ho fatto un terzo in discesa libera, i campionati italiani in seconda, terza media. Ah beh, quindi certo, un bel talentino. Un quinto in super, in gigante, all'elementari, però no, mi ero abbastanza portato e andavo bene. Eri rilanciato verso lo sci alpino e poi invece un'inversione di rotta. Sì, diciamo l'inversione di rotta è avvenuta con la scuola, in quanto abbiamo provato andando a Bormio, che avevo fatto ragioneria, a continuare lo sci alpino e la scuola, non sono stato in grado, era un periodo adolescenziale, quindi mi sono perso abbastanza assieme ad altri amici e i risultati scolastici non sono arrivati, ma neanche troppo quelli agonistici e quindi su decisione di famiglia, sono andato a Sondrio a scuola, ai Salesiani, e quindi ho perso un po' il contatto agonistico e quotidiano di allenamenti. Certo. Quindi per 4-5 anni lontano dalla neve? No, non così tanto, no, 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 dalla prima superiore che poi ho rifatto e quindi passati 2-3 anni sciavo e non sciavo, facevo un po' di acrobatica quando si è a casa con gli amici locali. Certo, chi non fa un po' di acrobatica quando si è a casa? Acrobatica, nel senso che si andava a sciare, si facevano salti, si facevano gobbe, si faceva... Tu respiravi quell'aria da casa, quindi eravamo... Io ce l'avevo dentro e di conseguenza... E da lì è partito a 16 anni, a 17 anni, è cominciato a fare le prime garette dei campionati italiani in giro con la specialità gobbe, dove c'era un nutrito gruppo di freestyler con il Freestyle Club Livigno e c'era un bel movimento e quindi era bello, divertente, c'era un agonismo giusto e fin da subito probabilmente ero abbastanza portato per questa specialità, anche condizione fisica forse arrivata dallo sci alpino, ma abbastanza elastico, forte, eccetera, che mi ha permesso anche di non avere troppi infortuni e quindi con già dei buoni risultati subito. Simone, se non ricordo male a Livigno c'era anche un gruppo orientato sull'acrobatica, sul balletto, mi ricordo male? Sì, ballettisti proprio ufficiali che si sono dedicati molto alla specialità, non propriamente, cioè si provava perché quando si era in giro c'era la gara di salti, di balletto e di gobbe, quindi tutte e tre le specialità e quindi qualcuno, tipo c'era Giorgio, Paolo, che ricordo, c'era la Katia, qualcuno che si era dedicato anche un po' al balletto perché fra le prove e prova qui e prova là, poi a qualcuno è piaciuto di più, però non siamo mai arrivati ad una vera specializzazione nel balletto. Allora ho in mente questi video che vedo ancora circolare in rete, beh, molti sono grafici. Sì, sono nazionale, era una bella, era tanto quanto poteva essere il balletto, il patinaggio artistico, però con degli attrezzi che erano di impedimento, cioè bisogna essere veramente bravi per, era bello sostenuto anche a livello di Coppa del Mondo, io ricordo, noi abbiamo avuto anche un campione del mondo italiano, Franco Roberto di Biella, che lui è stato campione mondiale, non ricordo perfettamente la data, ma credo nel 93, 91, 93, a cavallo delle Olimpiadi, dove, sì, forse prima di Alberville, perché era sport dimostrativo, Gobbe era diventato già ufficiale, invece il balletto era ancora in stand-by e quindi in quegli anni lì lui era diventato campione mondiale. Invece tu ti sei orientato immediatamente sulle Gobbe, anche con dei buoni risultati, con una certa propensione, come mi accennavi, mi ricordo forse una volta parlando con Chico Cotelli, che avendo appunto in Valfurva il laboratorio del latte e prestazione, mi diceva che dopo i test impostati sulla potenza dell'atleta, e tutti ci ricordiamo quel balzo fenomenale di un Alberto Tomba, dopo di lui veniva Simone Mottini, questa cosa me la ricordo, quindi vuol dire che certo le carte regole ce le avevi e come. Sì, forza e esplosività era un punto forte mio e del tutto naturale e ricordo anch'io che con test comparativi mi posizionava subito sotto il grande Alberto ed era motivo di orgoglio e forse quello è stato anche questa mia fisicità così elastica e comunque bella forte, è stato un motivo di non farmi troppo male su uno sport dove non è mai successo nulla di grave, però era facile perdere una linea, tre Gobbe prese male e ci si faceva male, ci poteva far male. Io ho avuto solo un piccolo infortunio, fra l'altro prima delle Olimpiadi di Lillehammer in Quebec dove una gara particolarmente fredda, era a meno 38 gradi, allora non c'era ancora il veto sul non poter fare una competizione sotto certe temperature e quindi si faceva la gara, io ricordo che si usciva dal cancelletto di partenza dalla cabina, si faceva così con la maschera, i primi tre si rompeva la maschera dal freddo che c'era e loro consigliavano di non farlo, io avevo rotto in quella edizione lì, avevo rotto tre paia di sci nei giorni precedenti fra una cunetta e l'altra e avevo rotto, ho avuto un piccola frattura al malleo tibiale all'interno dello scarpone, ho dovuto rompermi lo scarpone per togliere che si era gonfiato e tornato a casa subito, ho visitato a Milano, mi avevano fasciato e 15 giorni dopo sono andato a Lillehammer, quindi è stato un po' un avvicinamento un po' così che però forse mi ha anche un po' rilassato senza troppe tensioni e dopo un paio di iniezioni si andava bene la caviglia, non era un problema davanti alle gobbe olimpiche. Assolutamente, il tuo ingresso in nazionale nel 1987? Sì, 87, le prime mosse con la squadra dove cominciava a formarsi una vera squadra nazionale e con tutto il suo staff dove era seguito da Mauro, mio fratello, come direttore sportivo e con i primi allenatori sia per la preparazione estiva che per la preparazione invernale ricordo Ivan Marsnet, ex atleta di gobbe, anche lui assieme a mio fratello Mauro negli anni 70-80 che era arrivato anche lui fino alle Olimpiadi di Calgari e poi ha smesso e ci ha portato fino a Lillehammer. In squadra con te altri Livignaschi? Sì, per i primi 3-4 anni, quindi dall'89-94, c'è stato il Paolo Silvestri, Giorgio Zini, anche loro due olimpionici ad Alberville. e il Tiziano Galli, c'era un discreto gruppo. Certo, certo. Beh, insomma, la nazionale è composta già da 4 atleti di Livigno, non è cosa da poco. Quindi le prime gare di Coppa del mondo, i primi circuiti, i primi mondiali. Sì, diciamo che le mie prime Coppe Europa con Tiziano e gli altri abbiamo fatto dei buoni risultati, almeno io ero abbastanza contento e questo mi aveva permesso subito, nell'88, di fare i miei primi mondiali juniors alla Clusat in Francia, dove ero arrivato quinto, quindi ero contento. Certo, beh, un'ottima prestazione. Dopodiché i mondiali ufficiali? Nel 90 ho cominciato il debutto in Coppa del mondo, quindi si partiva sempre con le gare qua in Europa, Zermatt, piuttosto che Tign, la Clusat, tutta la parte europea, e a gennaio si partiva per l'America, quindi la mia prima esperienza, dove c'è stato subito anche il mio primo mondiale a Lake Placid nel 91 e poi un mondiale, quindi due anni dopo, nel 93 a Meiringen in Austria. Hai avuto la possibilità anche di girare il mondo e questa non è una cosa da poco. Sì, diciamo che a quell'età lì, cioè per me è ventenne, è stata, oggi la ricordo come la mia esperienza più bella, al di sopra forse dei miei risultati, dove avevo, sapevo i miei limiti, quindi il poter girare il mondo, avere un'esperienza con altre persone, altre nazionalità, e girare dappertutto, sciato ovunque, dal Giappone alla Scandinavia, Canada, Stati Uniti, ovunque. E quindi è stato un bagaglio molto importante. Assolutamente. Poi erano anche, sì, anni 90, quindi anche l'Oriente non era accessibile proprio a tutti, invece grazie alla possibilità, grazie allo sport, barriere aperte, certo, è una cosa non da poco, un ricordo indelebile. È cambiato, Simone, la specialità nell'arco degli anni? Sì, molto, come tutti gli sport che vanno sempre di più verso un agonismo puro e molta tecnica, soprattutto anche sull'attrezzatura e piste, secondo me, fin troppo preparate. Voglio dire, per me era interpretare una pista dove sei giudicato da cinque giudici, contava il tempo e i due salti. Mettere insieme questo, interpretando proprio la pista, era una cosa così personale. Oggi è tutto così schematico, cioè le gobbe sono preparate con una macchina apposta, a una distanza perfetta una dall'altra, quindi è quasi robotica la cosa. Certo, quindi le gobbe sono tutte uguali? Sì, tutte uguali, uno non cerca una propria linea, ci sono i salti che sono indicati dove devono essere. E' chiaro, è cambiato lo spettacolo, mediaticamente deve essere così, probabilmente. Beh, anche il livello di sicurezza si è portati ad essere più precisi. Sì, però quello è stato dettato dall'introduzione, perché finché ho fatto gara io, non si potevano fare evoluzioni con la testa sotto le gambe. Voglio dire, non si potevano fare i salti mortali nelle gobbe, non si potevano fare evoluzioni dove la testa rimaneva sotto, proprio per sicurezza. Infatti io non ho mai fatto una gara con un casco. Mai. Addirittura, vedi. Proprio mai, mai. Perché si potevano fare evoluzioni con il corpo eretto, rotazioni a 360 e tutto quello che uno si poteva inventare in quel senso. Poi dopo, per dare più spettacolo, si è aperto al salto. Dapprima con la testa leggermente inclinata, quindi non proprio sotto, quindi con le evoluzioni a cork, non so come si chiamano. E poi dopo sono usciti i salti mortali con gli avvittamenti anche sulle gobbe, quindi sicuramente molto più spettacolo, ma molto più di poca fantasia. Nel senso, tutti uguali. Li vedo anche nelle Olimpiadi che ho visto adesso, o successive, quindi da Nagano in poi, che si è cominciato a usare il casco per sicurezza, eccetera, è diventato tutta una macchinetta, tutta molto simile, quindi secondo me ha perso un po' il fascio. Forse perché... Si dava più spazio all'improvvisazione. Esatto. Per me il mio sport che ho fatto era proprio una cosa artistica, perché lo diceva lo sport stesso, un freestyle. E quindi di libera interpretazione dovevi piacere ai giudici, per come sciavi, dovevi essere veloce e essere giudicato sui salti. Quindi mettere insieme tre componenti era abbastanza difficile, però cambiano le cose. Beh, certo. Ed estate come vi preparavate per queste evoluzioni? Ma, d'estate si andava in ritiro nei vari posti dove, tipo a Villach, dove ci sono dei trampolini che saltando a terra in piscina e quindi fai tutta la preparazione sul salto a secco, diciamo, fin quando non ce l'hai proprio bene sulla... E poi lo porti sulla neve, pian piano lo inserisci anche fra le gobbe, e quindi è un percorso, la prima sull'acqua, poi sulla neve da solo, il salto, quando ce l'hai bene, allora devi fare le gobbe, fare il salto, l'evoluzione e riprendere la linea, quindi, diciamo, ce ne... non è così semplice. No, 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 non intendevo proprio questo. E era uno sport che dava da vivere? Per quelle... allora, per le altre nazioni, tipo, io mi rivolgo a Francia, Canada e Stati Uniti, gli atleti erano super sponsorizzati, probabilmente anche in casa loro, soprattutto Francia e Canada, dove avevano i top, era molto sentito e avevano... li vivevano proprio come poteva vivere un atleta di sci alpino. Per me, no, non... lo facevo, sono fortunato di avere una famiglia che me l'ha permesso, avevo i miei sponsor dove erano... Sport tecnici. E' una federazione che, ripeto, la mia fortuna è stata di gareggiare in anni dove la federazione era ricchissima, grazie a un tomba, a una compagnoni, dove portavano tantissimi sponsor, eccetera, eccetera, e quindi anche gli sport minori avevano una certa visibilità, grazie anche però al lavoro dietro di direttori sportivi che facevano sentire o si facevano... Certo. Gli anni d'oro dalla Fisi, appunto, grazie, come hai detto tu, Simone, ad Alberto e a Deborah, gli anni in cui comunque, credo, per voi c'era un rimborso spese, giravate il mondo, eravate spesati ovviamente dalla federazione, e forse anche una piccola diaria, presumo. Sì, 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 da quel punto di vista io non costavo a me stesso, cioè, mi andava bene, però non da... cioè, dovevi essere comunque qualcuno per vivere. Sì, esatto, sì, non campavi, però l'attività si faceva bene. Puntualizzo questo aspetto qua, perché recentemente è stato ospite Luca Ferrioli, lui è totalmente autosufficiente, la federazione praticamente lui, nessuno gli spesa nulla, anzi è solo un costo, quindi direi che negli anni purtroppo la specialità è andata praticamente morendo. quella, vediamo anche le difficoltà che hanno comunque nello sci alpino, che, cioè, tranne il gruppetto di classe A, il resto chiaramente mancano soldi, manca tutto. Quindi io sono stato veramente fortunato, perché, come dici te, io avevo le spese della macchina, avevo tutto quanto e me lo sono fatto bastare, non chiedevo niente di più, anche perché non ha che avessi risultati da... Simone, siamo quasi in conclusione, ma mettiamo anche il punto alla tua carriera, hai terminato nel... 94, 94 ho proprio finito con le Olimpiadi, ho finito la Coppa del Mondo, quindi dopo quattro anni consecutivi di Coppa del Mondo, nel 95 ho provato a fare delle garette, perché eravamo così e seguivo ancora un po' il freestyle in Italia, dove ho fatto terzo ancora i campionati italiani. E i campionati italiani ne vinti pareti? 5 o 6, 5 o 6 sì, ne ho vinti. E l'ultimo no, ho chiuso con un terzo posto e andava bene così. E dopodiché basta, ho cominciato la mia attività. Felice, senza rimpianti? Sì, so che a 24 anni dire basta, ma è stato un basta non dovuto, non voluto, penso che quattro anni per me sono stati veramente così intensi, non avevo altri obiettivi, altri progetti, avevo le Olimpiadi del 98, a 28 anni sarei magari anche riuscito a parteciparvi, però ero veramente talmente pieno di tutto e di tanto che non basta, finita così, senza rimpianti. Il tuo piccolo, undicenne piccolo relativamente, figlio Alessandro lo porta a fare gobbe? Bah, no, anche perché con le piste che fanno a Livigno, trovare una gobba oggi è veramente... Sono piste troppo preparate, troppo ben preparate. Una volta so che Marco, dalla Mottolino, ha provato a lasciare delle tracce per poter fare delle gobbe e la gente secondo me si diverte anche. No, ogni tanto se ce ne sono due o tre, gli dico, guarda, per farlo devi fare così, devi prenderla così, e sì, cerco di, non ho niente da trasmettergli, ma perché è uno sportivo, perché gli piace sciare fortunatamente, ma non da portarlo dentro. Beh, anche perché è talmente una specialità tecnica che o ti piace veramente o non te l'ha improvvisi. Siamo in conclusione, Simone Mottini, ti ringrazio, complimenti davvero per la tua bella carriera, grazie. Grazie mille a voi, saluti a tutti. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo, buona serata.